Bentornati a tutti nel canale, stiamo per iniziare la partita coppa, io e Davide su FIFA e da tantissimo che non facciamo un video, easy, premessa, io sono il rosso, Davide è il blu e non giochiamo a FIFA da quanto Davide? Un anno? Io sono il blu Ok, comunque stavo dicendo per chi sta guardando il video che non giochiamo a FIFA da anni no, anni no, però minimo un annetto sì, quindi quindi potrebbero accadere cose molto brutte e insensate in più siamo sul FIFA vecchio, quindi FIFA 19 lo so, quindi FIFA 19 no, non puoi perdere cartellino rosso, subito, via questo è rosso, è rosso diretto questo vabbè io vado, come va va Cristiano vabbè comunque è iniziata bene, nonostante fosse la prima partita dopo ma cosa fai? è iniziata bene comunque stavo dicendo, è iniziata abbastanza bene cioè, espulsione diretta e quasi bravo Pjanic mamma mia, mamma mia di pala che classe che classe mangio, mangio mica non c'è più alla Juve, peccato oh no, non ci credo oh no ma cosa vuol dire questa cosa? ma che sfigapiamo ci vedeva lontano da un milio da un milio, tu vai, tu vai oh no, sono fuori, vai no sono tira è l'espulso, è l'espulso, è l'espulso è l'espulso in nove, in nove il giallo si va bene fa da dietro il giallo guarda guarda no, no, no no, abatto io ma perché sempre tu? Cristiano è stato clenente fa sbagliarlo, perca puttana bravo primo gol del ritorno spettacolo ho usato richiesta quittano, quittano quittano no o hanno cambiato o l'hanno fatto perché erano incazzate e hanno detto oh, svegliamoci queste cose qua vabbè dai, martelliamoli siamo uno in più, eh se perdiamo questa va bene vabbè se hanno dei professionisti ci sono no, no no, no no, perca che cazzo si, si, si va bene è fallo no, no stai sentendo ma il problema vabbè ha, ha, ha si è spiantato malissimo è morto il giocatore è morto no ce l'abbiamo fatto ma la fende no, no, no vado ma è buon' a cento me ne vado tutto da solo son partito ma che cazzo è già la seconda traversa è già la scuola in mezzo se riesci se no vai da solo è lui ma no va no, ci ha fottuto in due vai, vagli addosso bravo oh no 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 è vero primo tiro in porta un gol cosa è successo gliel'ho tirata sul piede dai guarda guarda dieci tiri sei in porta un gol ok che è la prima partita ma un tiro un gol hanno fatto questo qua ma neanche nel calcio reale succedono ste cose vai vai da vabbè ma son degli animali ma son delle bè son degli animali da cortile eh vabbè tutti i gialli per lui dai non è uguale tira tira anche eh vabbè da ci stava eh però nessuno no no dai non ci credo ok tira sole oh comunque gufata ronni non ha fatto un cazzo vai non è fuori gioco è regolare tutta la vita tira eh ho tirato io te lo giuro cos'è calcio di rigore ha munito già doppio diretto sono in 9 fatti in 9 va bene tante d'anima è tua eh Davide no ma che visuale è è tua eh posso ok è tua eh è tutta tua io non ho sbagliato sì cazzo è emozionale triplettaroni triplettaroni spetta cioè la prima partita spettacolo al campo no cioè non abbiamo oh ma perché non c'è nessuno ma dove va va l'Alexandro dove cazzo va in campagna va no no efficiente è andato in campagna l'Alexandro fa ho sbagliato sbagliato stupido no 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 eh scusa è l'emozione è l'emozione errore che ormai c'è amamo cammina vai tua tutta tua segna occhio a cristiano no dai ma va vabbè il loro scelte di Gesù Cristo il nostro fa schifo è l'emozione è l'emozione ancora la si fa no io cosa fai sicuramente loro sono delle best dei sudici degli animali no però non possiamo vai 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 prenderlo è tutta tua piuttosto scivolata ecco Douglas Costa è partito guarda Douglas Costa è un fenomeno calcio di rigore espulsione sono degli animali no ma come facciamo vabbè ultimo uomo giallo vabbè e non ha mai cercato la palla eh tocca a me quattro gol di Ronaldo easy vabbè mai in cassaforte eh la d'è è finito basta ma si abbiamo in cassaforte sai come è FIFA che negli ultimi due minuti di recupero ti fa appena il 5 gol cosa non fa eh guarda oh vabbè noi abbiamo preso due traverse però eh cioè Douglas è partito eh vabbè fa uscire il portiere volevo umiliarlo boss no dai che so ma santo cielo tu attira ma dai bravo bravo come hai fatto vedere il pallo dai vabbè finito boss prima partita direi dopo un annetto ci siamo e vediamo già la promozione e la vittoria della divisione anche guarda è partita successiva per noi siamo contro la Francia siamo fottuti eh Mbappé Mbappé siamo fottuti eh abbiamo perso eh abbiamo perso ma tantissimo abbiamo perso Mbappé no 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 è fuori gioco è clamorosa la cosa ma no 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 tira tira fai quello che vuoi ma non dalla qua si si il maiore la messa c'è già uno che si mette a palleggiare sull'1-1 si mette a palleggiare in mezzo al campo devi punirlo pulisci lo cazzo che vuoi essere fallo come fanno gli ha sanzicato la vita gli ha sanzicato la cazzo di vita via da lì via uomo eh non so chidarla non perderla lì piuttosto buttala via lì piuttosto no no ma che gole a caso vabbè ma vai a tua nonna oh no 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 poicamadonna 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 è andata male questo vabbè comunque siamo un'altra partita siamo contro il Manchester City sì che bello sì tempi perfetti tempo perfetto tempo perfetto guarda lì azione questa è c'è proprio perfetto tempi perfetti non è fuori gioco lancia non è fuori gioco non è fuori gioco fai mezzo te la passo gol vabbè vabbè l'abbiamo già vinta questa la metto lì in mezzo è perfetta questa te l'ho detto vabbè chiellini chiellini è saltato in cielo è saltato in cielo è saltato chiellini in palazzo no è bruci o chiellini no bruci vai sei da solo alto gol di magico che stai pretta non vedono la palla non sanno più cos'è vabbè vabbè due gol su angolo di te vabbè ce l'ho ce l'ho no che cazzo fa vabbè non toccano il panno non toccano più non toccano più se non facciamo il curio no non giocare più vai fai da solo mamma mia mamma 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 che cazzo si cazzo potrebbe grossare uuuh ma eh va ma che cazzo si tiene nel cielo calcio un champan e non faccio numeri cioè così no cazzo no va bene abbiamo fatto i difficili ci sta ci sta ci sta non facciamo i più deficienti mettiamo deciglio deciglio primo punto dai se dovesse segnare deciglio cioè finisci tu no no deciglio avrà ancora toccato il pallone quanto mi manchi uuuh deciglio si uuuuh 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 siamo promosse comunque divisione 2 fenomeni adesso andiamoci a vincere il campionato alla prossima partita il manchester city ma non è che sono i due di prima no 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 uuuuh uuuuh ma questo è un strimo cosi vai lanci si in mezzo easy oh easy iiii iiii scivolata bravi ma che cazzo fai dai mi è rimasto detto il tasso della scivolata ma se a volte ti impazzisci fai cosi a caso non giuro mi è rimasto detto no no calcio di rego easy easy c'era che serve voglio dare posto siiii siiii 2 a 0 no le si sono scalperate no 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 ha tirato occhi chiusi di primo cosa cazzo easy io stavo pensando cosa cazzo oh cosa ho visto cioè lo vissero in chi si dai come è una cosa ecco beee dai dillo ancora che sono in porta or guardami io ti faccio spiegare io ti sparo no è pazzi no 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 e ti sparo ma no cioè questa ed è finita così no si 19 punti non l'ho vinto allora con queste tre quattro 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 artite sei a uno cinque a uno uno a due quattro a due incredibile esatto e siamo in secondo abbiamo vinto la divisione e siamo saliti in seconda divisione prossimo giro vedremo di sarà due in seconda divisione due division one cop road eccolo è il titolo easy già ragazzi qua abbiamo finito ci vediamo alla prossima puntata su fifa che dovremmo affrontare la seconda divisione puntiamo veramente alla prima divisione cosa che però sarà molto molto difficile comunque condividete mettete mi piace solite cose speriamo che vi piaccia il video niente dateci consigli su fifa su altri video che possiamo fare alla prossima ciao a tutti ciao ciao chiudo chiudi chiudi